Mi chiamo Selena Caglia, ho 33 anni e sono architetto e dottore in ingegneria edile. Da anni mi occupo di progetti europei e ricerca in urbanistica. Credo in uno sviluppo sostenibile dei territori attraverso una pianificazione attenta a migliorare la qualità della vita delle persone e l'ambiente in cui viviamo. Ho scelto di candidarmi con la lista Sansa perché penso che sia un'opportunità per prendersi davvero cura di tutto il territorio, costa e introterra, centri e periferie, destinazioni turistiche e aree industriali. Per questo da candidata mi impegno a favore della mobilità sostenibile con scelte per un trasporto pubblico più efficiente, accessibile e soprattutto affidabile. Spostarsi in bus o in treno deve essere semplice e conveniente. Per questo è necessario avere un unico biglietto per tutta la rete dei trasporti almeno a livello provinciale e abbonamenti agevolati per pendolari, studenti e anziani. Bisogna aiutare le persone ad andare in bici o a piedi con percorsi sicuri e connessi alla rete dei trasporti. Spostiamoci in modo sostenibile per vivere in una Liguria migliore. Spostiamoci in modo footer没有 Spostiamoci in pubblica Grazie a tutti.